Sono rientrato a circa 10 alle 8 la sera a casa e sentendo d'odore di bruciato, ho visto dei quadri che erano stati messi sul divano, il finestrone del salone era aperto e poi mi sono reso conto che hanno aperto la cassaforte e c'era stato un furto. Ancora un colpo messo a segno a Dolmo frazione alle porte di Arezzo nelle mire dei malviventi in l'abitazione di un vigile del fuoco aretino, è successo sabato sera attorno alle 18.30. Il mio cugino che abita accanto ha sentito dei lavori, pensava che io facessi dei lavori di manutenzione, un trapano o qualcosa del genere e lui ha pensato giustamente che fossi io a lavorare, ma il tutto è stato molto rapido. Un furto lampo in una manciata di minuti, infatti i ladri approfittando dell'assenza del padrone di casa sono entrati all'interno dell'appartamento passando dalla finestra. Sono salito nelle camere e anche lì hanno rivistato i cassetti, i comodini, i cassetti della camera dei ragazzi e hanno asportato tutto quello che è stato dato di valore. Dopo aver messo sotto sopra le camere a caccia di contanti e preziosi, i ladri si sono messi alla ricerca della cassaforte, aperta poi con un flessibile. Non hanno fatto nessuna scernita, hanno preso tutto, documenti, quello che c'era dentro, buste, purtroppo c'avevo anche dei soldi che avevo preparato per una pensione alternativa e sono rimasti lì. Quanto hanno portato via? 5.000 euro di contanti e tutti i monili di oro che erano i ricordi dei miei figli, delle comunioni, cresime e i vari regalini dei nonni. Sull'episodio stanno indagando i carabinieri di Arezzo.